Quindi vediamo alcuni esempi di circuiti che realizzano filtri biquadratici e cominciamo con una famiglia di circuiti che si chiama cella di Sol-En-Key. Vediamo prima, questa della cella di Sol-En-Key è una famiglia di filtri. In realtà con piccole modifiche si ottengono sia passalto, sia passabasso, sia passabanda. Vediamo intanto il passabasso. Copro l'immagine, vedo la cosa in faccia. Aspetta, se no mi sposto io un po' più in qua. Vedevo il faro negli occhi. Allora, c'è ne sono anche i passabasso, come avevo detto. Fatta così. Ci sono due resistenze in serie qua. Questa è una capacità. Qui c'è un amplificatore non invertente. E poi qui c'è un ritorno. Così. L'uscita si prende qua. Quindi questo, lo riconoscete, è un amplificatore non invertente. Questa è un amplifica A, che è uguale a 1 più R2 su R1. Dove R1 e R2 sono queste due resistenze. D'accordo? Per il momento non sappiamo più che A è positivo, ovviamente. E poi, come abbiamo già visto, questo amplificatore non invertente era un polo che sarà il prodotto guadagno-banda dell'operazionale diviso all'amplificazione. Ok? Con posizione. In realtà, diciamo, per il momento noi trascuriamo il polo dell'operazionale. Immaginiamo che il polo dell'operazionale intervenga così in alto da, come dire, non interessarci alle frequenze a cui guardiamo il funzionamento del filtro. Quindi lo scrivo qui tra parentesi e trascuriamo il polo dell'amplificatore. Non invertente. Bene. Poi, che cosa possiamo aggiungere? Possiamo... Ma niente, qui si tratta semplicemente di fare il calcolo e di vedere che ci sono due poli e basta. Che ci sono due poli si capisce bene, ci sono queste due capacità e non stanno in una maglia impropria, quindi senz'altro vengono fuori due poli. Il fatto che non ci sia uno zero, secondo me, si vede abbastanza bene. ma si vede abbastanza bene, ma non è proprio immediato. Ecco, non benissimo. E com'è che si fa a vedere che non ci sono zero? Innanzitutto non ci sono zero nell'origine. Questo si vede anche senza fare i conti, perché per frequenze nulle le capacità sono eliminabili dal circuito, quindi non è necessario che ci siano. e c'è semplicemente un amplificatore non invertente di questo tipo. E poi... Quindi il guadagno, l'amplificazione sarà A, perché qui in R non passa corrente, è come se il generatore di ingresso fosse applicato direttamente all'ingresso del non invertente, quindi l'amplificazione è A. Quindi lo sappiamo già. Potrebbero esserci poli altrove, ma non lo so. In realtà si vede abbastanza bene che ci sono dei poli... degli zeri, come si dice, all'infinito. Cioè, vuol dire che non ci sono zeri. Questo dovuto a C si vede benissimo, che quando C, a frequenza infinita, quando C tende a un cortocircuito, in pratica io ho azzerato questa componente e analogamente, quando la frequenza tende a un cortocircuito, questo punto mi si porta qui e avendo un'imperenza di uscita, l'amplificatore non invertente è praticamente nulla, se seguo questo percorso, il segnale qua dà una tensione nulla. Se seguo questo percorso, passa qui, poi passa all'imperenza di uscita, l'imperenza di uscita è nulla, quindi la tensione che causa su questo punto è nulla. Questo è giusto per far vedere che molte delle cose, delle proprietà dell'amplificatore, si vedono anche senza fare conti. Per cui, quando si fanno i conti, poi si ottiene un risultato e si sa vedere se il risultato è ragionevole oppure no. Facciamo i conti. Per fare i conti, scriviamo le equazioni a due nodi, in pratica 1 e 2. Chiamiamo questo V1 e questo V2. E' molto semplice la cosa, perché V2, io mi devo ricordare che V2 è uguale a V su A. Quindi scrivo questo e questo, uso la pagina successiva. Allora, nodo di V1. Equazione nodi, quindi V1 che moltiplica la somma delle ammettenze, che è 2 su R, più CS, meno Vs per 1 su R, meno VU su A, che è V2, per 1 su R, meno V per Cs, uguale a 0. Poi, nodo di V2, V2 è V su A, che moltiplica la somma delle ammettenze, quindi 1 su R, più CS, meno V1 su R, uguale a 0. Allora, qual è la cosa? Per ricavare la funzione di trasferimento, dobbiamo per esempio ricavare V1 da qui e portarla all'equazione precedente, così l'equazione iniziale diventa un'equazione che lega solo V a Vs, quindi si può ricavare V su Vs. Ok? Quindi, banale la procedura, io che cosa faccio? Prima qui ricavo V1, V1 è uguale a, se moltiplico tutto per R, viene 1, più Rcs, che moltiplica 2, più Rcs, per V, questo è il primo termine, meno A Vs, meno V, meno V A Rcs, uguale a 0. Quindi, V che moltiplica, mettiamo tutti i termini di ordine 2, quindi questo per questo, cioè Rcs al quadrato, termini di secondo grado, è l'unico, più termini di primo grado, 2 Rcs, più, questo per questo, fa Rcs, meno A Rcs, più 2, meno 1, uguale ad A Vs. Quindi, a questo punto, posso calcolare la funzione di trasferimento, H di S uguale a V su Vs, è uguale a, numeratore c'è soltanto A, al denominatore c'è Rcs al quadrato, più 3 meno A, per Rcs, più 1. ok, quindi due poli, nessuno 0. Come, quindi, questa è una cosa che abbiamo visto prima di fare i conti, effettivamente, si è verificata, insomma, ce lo potevamo aspettare. l'altra cosa che è abbastanza evidente qui, è che, quando S è uguale a 0, vedete, la funzione di trasferimento fa A, ed è una cosa che avevamo detto anche prima, in pratica c'è soltanto l'amplificatore non invertente. ok, quindi, questa espressione va confrontata con quella che abbiamo visto prima, no? Se la scriviamo in questo modo, H0, che moltiplica S su omega P al quadrato, più S su Q omega P più 1, allora, che cosa vuol dire? Che H0 è uguale ad A, e questo l'avevamo già detto, qui si vede anche che omega P è 1 su Rc, questo è il limite superiore di banda a meno 3 dB del filtro. e poi, se omega P è 1 su Rc, guardando il primo grado, questo 3 meno A è 1 su Q, quindi Q è uguale a 1 diviso 3 meno A. Vedete? Quindi dal punto di vista della progettazione è abbastanza facile, perché, devo fare un filtro passabasso, ok? Uso la cella e solle in key, poi, se ho da imporre il limite superiore di banda, so che è uguale a 1 su Rc, quindi, per imporre il limite superiore di banda, devo scegliere semplicemente Rc, per imporre il Q del filtro, devo scegliere A. A è 1 più R2 su R1, quindi devo scegliere il rapporto tra R2 e R1. Vedete bene anche che ho meno gradi di libertà, cioè ho più gradi di libertà di quelli che mi servono, ho meno vincoli che gradi di libertà, perché ho due vincoli, che sono omega P e Q, e in pratica 4 gradi di libertà, Rc e R2 e R1, in realtà. Poi, vedete, in pratica quando ho fissato il Q, automaticamente è fissato anche l'amplificazione, ma, dice il valore della funzione di trasferimento a frequenza nulla, lì non ci posso far molto, purtroppo ho la stessa quantità, quindi se il Q mi viene imposto da altre condizioni, H0 non lo riesco più a modificare, se voglio cambiare l'ampiezza, devo mettere in cascata un amplificatore, non c'è molto da fare. Oh, qui c'è l'unica cosa che è importante guardare, che bisogna stare attenti al valore del Q che si vuole ottenere, vedete, perché per avere un Q grande, devo avere A vicino a 3, siccome poi tutte queste quantità sono affette da un po' di tolleranza, devo stare attento perché se per esempio voglio avere Q 1000, per avere Q uguale a 1000, fate il conto, devo avere A uguale a 2.999, questo vuol dire che se poi per delle tolleranze sui valori delle resistenze, viene Q uguale a 3.01, Q mi viene negativo, che vuol dire i poli sono a parte reale positiva, cioè il sistema è instabile, quindi questo perché vi faccio notare questo aspetto, perché con un filtro del genere, poiché facilmente il sistema passa ad avere Q alta a essere instabile, devo evitare di avere Q troppo alti, altrimenti rischio di portare il sistema in situazione stabile, quindi qui non posso avere Q molto elevati rischio di instabilità. Quindi qui devo tenere presente che dal punto di vista pratico sarà sempre difficile avere valori precisi, quindi devo fare conti con il fatto che ho delle tolleranze, non devo mettermi in situazioni che sono troppo dipendenti dalla precisione con cui ho i valori, perché avere cose precise vuol dire tipicamente avere costi molto alti, più o meno in certi casi è necessario avere i valori super precisi, in quei casi lì bisogna tarare uno a uno i componenti, quindi tararli singolarmente, quindi con costi elevati, in produzione non si riesce a fare. Va bene, allora, questo è un esempio, e viene abbastanza immediato anche l'esempio corrispondente della cella, è solo in chi passa alto, così vediamo anche un esempio passa alto, quindi vediamola, la prendiamo dalla stessa famiglia, cella, solle in chi passa alto, perché la cella passa alto è uguale a quella passa basso, semplicemente scambiando di posto resistenze e capacità, in pratica io devo fare così, devo prendere, avevo, devo prendere il circuito, avevo due resistenze in serie, mi diventano due capacità in serie, e adesso, alle due capacità sostituisco due resistenze, e poi per il resto è uguale. La forma del circuito, come si dice, la topologia è esattamente identica, cambiando soltanto di posto le resistenze e le capacità. Allora, guardate che se io, quando ho R sostituisco 1 su CS, e quando ho 1 su CS, sostituisco R, allora, quando avrò RCS, mi viene da sostituire, al posto di R, 1 su CS, al posto di CS, 1 su R, R viene questa operazione, al posto di RCS, mi va 1 su RCS. Quindi io potrei evitare di fare, in pratica, i conti di prima, perché se ci fate caso, alla pagina precedente, qua, R, c'è un paio, non soltanto come prodotti RCS, quindi io potrei fare i conti come prima, non ci vuole niente, si tratta di cominciare dall'inizio, scrivere l'equazione due nodi, e poi fare lo stesso calco. Oppure, visto che ho appena fatto il conto, potrei sfruttare il risultato che ho trovato, e sostituire a RCS, 1 su RCS, per vedere quello che ottengo nel nuovo filtro. Non lo facciamo così, poi magari per esercizio, per vedere se vi riesce, provate a scrivere l'equazione nodi, e arrivare in fondo, giusto per, così, per riprova, per verificare un po' che il metodo funzioni, e per, allora, io quindi devo fare 1 su RCS al quadrato più 3-AV diviso RCS più 1 per A. Questa è la funzione di trasferimento. Ora, mi conviene di più chiaramente scriverla moltiplicando tutto per RCS quadro, quindi se moltiplico tutto per RCS quadro che cosa mi viene? Mi viene in pratica 1 e questo 1 diventa un RCS quadro più 3-AV per RCS più 1 e al numeratore mi compare quindi il RCS quadro il denominatore è quello di prima quindi 2 poli nella posizione che dicevamo prima quindi con omega P uguale a 1 su RC e Q uguale a 1 diviso 3-A questa l'abbiamo chiamata A questa l'abbiamo chiamata A e qui la parentesi la devo chiudere va bene? quindi questo è esattamente come prima il numeratore invece ha due zeri nell'origine che è esattamente quello che vogliamo nel filtro passalto quindi in questo modo noi siamo riusciti a cambiare la funzione di trasferimento soltanto inserendo due zeri nell'origine H infinito il limite per S che tende a 0 di scusate il limite per S che tende a 0 la funzione di trasferimento vedete bene in questo modo viene stavolta A tenete presente in pratica che cosa succede che io ho due zeri nell'origine lo faccio vedere a parte non c'è da aggiungere altro ecco no la cosa che c'è da aggiungere è che si vedeva che avremmo potuto capire anche solo guardando il circuito che questo circuito ha due zeri nell'origine perché vedete qui il segnale per andare dal generatore all'ingresso dell'amplificatore deve passare attraverso queste due capacità ciascuna capacità se la sostituisco con un circuito aperto mi manda a 0 il segnale che arriva all'ingresso dell'amplificatore quindi se questo è un circuito aperto non arriva il segnale all'ingresso dell'amplificatore se questo è un circuito aperto non arriva al segnale dell'ingresso dell'amplificatore perché il segnale passa solo di qui e arriva sull'uscita di un sistema con imprende uscita nulla quindi non è accaduta la tensione quindi vi avevo già detto questa cosa per capire se ci sono un zero nell'origine basta vedere se quella singola capacità quando va a essere sostituita da un circuito aperto che vuol dire quando la frequenza va a 0 dal luogo ha uno 0 nell'uscita ciascuna di queste due dal luogo ha un 0 all'uscita quindi io qui ho due 0 nell'origine io giusto ne approfitto per farvi così meditare su questo aspetto noi abbiamo detto trascuriamo il polo dell'operazionale se io rappresento il diagramma di Bode di Bode quindi h in db in funzione di f su scala logaritmica io ho 40 db per decade qua poi a un certo punto c'è Omega P e ho i due poli per cui qui ho 0 db per decade poi a un certo punto io posso trascurare un po' quello che succede ma a un certo punto io che cosa avrò avrò che sicuramente entra in gioco il polo dell'operazionale ecco tutto il ragionamento quindi in realtà un filtro passa alto non è passa alto per frequenze infinite perché poi a un certo punto entra in gioco il polo dell'operazionale quindi quando parlo di passa alto è un passa alto sempre nell'ambito delle frequenze che mi interessano nella realtà c'è sempre questo effetto lo stesso c'è quando ho un passa basso avrò 0 poi meno 40 db per decade a scendere poi da una frequenza in poi entra il polo dell'operazionale invece che 40 avrò 60 db per decade magari a quel punto non mi importa più lo stesso qui però in generale dal punto di vista della progettazione è sempre importante verificare che magari a posteriori il polo dell'amplificatore non invertente dovuto all'operazionale sia molto più in alto rispetto alle frequenze che mi interessano altrimenti non mi funziona veramente da passa alto il circuito questo è comunque una considerazione da tenere presente ok dunque facciamo un attimo una pausa grazie grazie grazie